dalle confessioni di sant'agostino vescovo il mediatore autentico che la tua misericordia misteriosa rivelò e mandò agli uomini affinché dal suo esempio imparassero proprio anche l'umiltà questo mediatore fra dio e gli uomini l'uomo gesù cristo si presentò fra i peccatori mortali e il giusto immortale mortale come gli uomini giusto come dio affinché ricompensa della giustizia essendo la vita e la pace per la giustizia congiunta con dio abolisse la morte degli empi giustificati che con loro volle condividere e lui che fu rivelato ai santi del tempo antico perché si salvassero credendo nella sua passione futura come noi credendo nella sua passione passata in quanto è uomo intanto è mediatore in quanto verbo invece non è a metà poiché è uguale a dio dio presso dio e insieme a lui unico dio quanto amasti noi padre buono che non risparmiasti il tuo unico figlio consegnandolo agli empi per noi quanto amasti noi per i quali egli non giudicando un'usurpazione la sua uguaglianza con te si fece suddito fino a morire in croce lui l'unico a essere libero fra i morti avendo il potere di deporre la sua vita e avendo il potere di riprenderla vittorioso e vittima per noi al tuo cospetto e vittorioso in quanto vittima sacerdote e sacrificio per noi al tuo cospetto e sacerdote in quanto sacrificio che ci rese di servi tuoi figli nascendo da te e servendo a noi ha ragione e salda la mia speranza in lui che guarirà tutte le mie debolezze grazie a chi siede alla tua destra e intercede per noi presso di te senza di lui dispererei le mie debolezze sono molte e grandi sono molte e grandi ma più abbondante è la tua medicina avremmo potuto credere che il tuo verbo fosse lontano dal contatto dell'uomo e disperare di noi se non si fosse fatto carne e non avesse abitato tra noi atterrito dai miei peccati e dalla mole della mia miseria avevo ventilato in cuor mio e meditato una fuga nella solitudine tu me lo impedisti confortandomi con queste parole cristo morì per tutti affinché i viventi non vivano più per se stessi ma per colui che morì per loro ecco signore lancio in te la mia pena per vivere contemplerò le meraviglie della tua legge tu sai la mia inesperienza e la mia infermità ammaestrami e guariscimi il tuo unigenito in cui sono ascosi tutti i tesori della sapienza e della scienza mi riscattò col suo sangue gli orgogliosi non mi calunnino se penso al mio riscatto io mangio io bevo e io distribuisco se povero desidero saziarmi di lui insieme a quanti se ne nutrono e si saziano loderanno il signore coloro che lo cercano